segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te lo scandalo il caso diciamo politico di giornata che riguarda il ministro l'olobrigida è un convegno sulla natalità esiste un'etnia italiana da tutelare che effetto le fa questa frase mi fa un effetto sbagliato perché ritengo estremamente sbagliate queste parole non sono le prime proprio il concetto di di razza non dovrebbe esistere lui lui naturalmente dice non esiste una razza ma esiste un'etnia che secondo la treccani definisce un gruppo linguistico e culturale che va tutelato veramente io c'ero e ho detto esistono più razze quindi comunque io penso che sia un concetto che dovremmo lasciare ad altri tempi e penso invece che ci si debba concentrare su quello che oggi è emerso da quel dibattito a cui partecipato anch'io cioè la necessità ad esempio di aumentare l'assegno unico per le famiglie per i figli che è una battaglia che il partito democratico ha portato avanti e che ha portato un risultato significativo non sono per tornare indietro come propone il governo alle detrazioni fiscali perché lascerebbero fuori quei 9 milioni e passa di persone che in realtà sono considerate incapienti quindi su cui la detrazione fiscale non agisce ma accanto a questo abbiamo parlato di investire maggiormente negli asili nido di avere più servizi di lavorare sul congedo paritario di sfidare la precarietà del lavoro perché non può non vedere il governo questo nesso tra natalità e precarietà adesso arriviamo non è